In provincia di Ragusa nessun sindaco è sulle posizioni di Orlando e De Magistris. A Matuna, Pozzallo è il più chiaro nel contestare la legge 132 del 2018, che ha convertito il cosiddetto decreto sicurezza, senza però giungere a dichiarare di poterla disapplicare. Le conseguenze ancora sono da valutare. Noi sappiamo che le stime che abbiamo, che ci sarà una quarantina di persone che dovranno uscire dai centri di accoglienza e quindi non avranno più questa forma di protezione, di tutela e quindi questo potrebbe costituire un problema sociale sicuramente. Quindi stiamo cercando di correre ai ripari, nel senso che stiamo contattando, stiamo avviando contatti con le associazioni, con la Caritas in particolare, per avere anche il loro punto di vista e per capire come fronteggiare questo tipo di situazione. Sorprendo un po' nella legge delle dichiarazioni di sindaci, quindi pubblici ufficiali, che si dichiarano pronti a disapplicare una legge dello Stato, con la motivazione che la legge stessa sarebbe incostituzionale. Mi limito a osservare che ci sono degli strumenti che proprio la nostra Carta Costituzionale prevede nel caso in cui una norma viene sospettata di essere contraria ai principi della Costituzione. C'è il ricorso proprio alla Corte Costituzionale, passando attraverso un giudice ordinario, e quel giudice può sollevare la questione di legittimità costituzionale, qualora ritenga che il provvedimento normativo non sia incostituzionale o non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale posta, e quindi a quel punto sarà la Corte Costituzionale a valutare la conformità del testo ai principi della Costituzione. Non può, secondo me, un sindaco disapplicare una legge dello Stato, perché a quel punto egli stesso si pone contro la Costituzione. Ragusa ha dato prova di essere una città solidale, una città inclusiva, e quindi noi, l'opinione personale mia in relazione a questo provvedimento normativo, è di perplessità. Chiaro che c'è della perplessità per tanti motivi, perché effettivamente sembra che vengano limitati dei diritti nei confronti di persone che meriterebbero di avere questi diritti, dato che non si possono fare distinzioni quando si tratta di temi sociali, di temi di questo genere, tra persone in ordine in relazione alla loro provenienza, alla loro cittadinanza. E quindi questo già sembra qualcosa che è un po' non conforme a dei principi anche di solidarietà, di principi che, secondo me, ogni amministratore deve avere. Detto questo, dobbiamo risolvere, a mio avviso, il problema a un livello centrale, a livello generale. Finora quindi nessuna adesione all'appello della GGL a seguire l'esempio di Orlando, non tanto come atto di disobbedienza civile, ma piuttosto di obbedienza alla Costituzione.